Max Allegri e Ambra si sono sposati in segreto? Ecco gli indizi schiaccianti che potrebbero portare in quella direzione L'allenatore della Juventus Massimiliano Alleggeri e l'attrice Ambra Angiolini sono arrivati da pochi giorni a Milano, dopo aver trascorso le feste natalizie dell'anno nuovo a Londra I due sono stati immediatamente pizzicati dai paparazzi che tramite le loro foto hanno permesso di scoprire un dettaglio non da poco che potrebbe rivelare un clamoroso segreto sulla loro relazione amorosa Allegri e Ambra, quel dettaglio che non è sfuggito.La prima rivista di gossip ad accorgersene è stata diva e donna Ambra e Allegri di ritorno dall'Inghilterra indossavano entrambi al dito quella che a tutti gli effetti sembrerebbe una fede nuiziale Per questo motivo secondo alcuni i due potrebbero addirittura essersi sposati di nascosto e in gran segreto Al momento non ci sono commenti ufficiali da parte dei due interessati, ma le immagini sembrano piuttosto inequivocabili In attesa di sapere la verità quel che è certo è che tra i due le cosse vanno a gonfie vele Entrambi sembrano aver definitivamente dimenticato le precedenti esperienze di coppia e appaiono agli occhi di tutti più affiatati che mai Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like